F*** C***o 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 Grazie a tutti. Sì! Sì! Sì, cazzo, vaffanculo a livello di merda! Minchia, che goduria! Vaffanculo! Pensi di andare nei pressi di viso per rinestare le enerzioni a testa? No, penso di no! Che stress, ragazzi! Allora, contiamo i tentativi... Abbiamo questi... Mamma mia! Ah! 29 chuzan e 177... Attenso Wow